Buonasera a tutte e tutti e benvenuti, benvenute. Al quinto appuntamento della serie di conferenze, diciamo così, della serie di dialoghi che il gruppo nazionale scientifico di Extinction Rebellion ha organizzato durante questo mese e il mese scorso per avere una panoramica completa di tutte le istanze che stanno dietro a quella che viene definita come la doppia emergenza, l'emergenza climatica e l'emergenza ecologica. In particolare questa sera abbiamo due ospiti veramente di rilievo, personalmente credo che portino all'interno della discussione che abbiamo in Extinction Rebellion un punto di vista che è gioco forza abbastanza trascurato. Di solito quando si parla di queste emergenze se ne parla soprattutto in termini di come siamo messi gli scenari climatici, l'aumento di temperatura, le modalità con cui fare mitigazione o adattamento rispetto alle minacce poste dalle due emergenze e in generale la situazione così come ce la racconta la scienza. Bene, Marco Armiero e Stefano Malavasi questa sera ci portano una testimonianza del significato che assume il rapporto tra l'uomo, tra noi e la biosfera, cioè quella parte di ambiente fatta dalle creature viventi. Partendo dalla biologia, dall'etologia e arrivando poi all'emergenza antropologica che costituisce il titolo di questa serata, vedremo come l'emergenza climatica, i problemi a cui stiamo venendo posti di fronte richiedono anche una prospettiva che è antropologica e che ha a che fare proprio con la nostra capacità e con il dovere sempre più pressante da parte nostra di cambiare il rapporto che l'uomo ha con la natura intesa come l'insieme degli esseri viventi che interagiscono con noi. Due parole di presentazione, abbiamo Marco Armiero, ti ringrazio di essere dei nostri, so che Marco è veramente estremamente conteso e occupato per cui ci fa ancora maggiore onore averlo qui tra noi questa sera. Marco Armiero è il direttore del Laboratorio di Environmental Humanities del Royal Institute of Technology di Stoccolma ed è uno dei padri fondatori della disciplina della storia dell'ambiente. Quindi una disciplina che ci regala una prospettiva concettuale corretta su cos'è l'ambientalismo, su qual è la storia con cui il concetto di ambientalismo, il concetto di natura stessa si è evoluta nei decenni e in che modo questa concettualizzazione poi ha trovato la sua esplicazione culturale nel concetto di antropocene che avrete sentito parlare. Vorrei anche dire che Environmental Humanities, che è una cosa che forse alcuni di voi hanno cominciato a sentir parlare, è una disciplina nuova, è una disciplina nuova che finalmente ha cominciato a trovare posto anche nei curricula dell'offerta didattica universitaria. L'università da cui provengo, l'Università Ca' Foscari di Venezia, quest'anno ha acceso per la prima volta un corso di laurea in Environmental Humanities, che mette quindi insieme un'anima ambientale che pesca, diciamo che appoggia sulle scienze, ha la parte umanistica necessaria ad avere la visione completa, sistemica, come si usa dire adesso, di cosa sia l'ambiente e di cosa sta succedendo. Il secondo oratore è Stefano Malavasi, mio amico e collega all'Università Ca' Foscari. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Stefano, grazie anche tu, è professore ordinario di etologia, insegna e si occupa di conservazione della biodiversità e di ecoetologia. In particolare vorrei dirvi anche che io l'ho conosciuto come allievo di Danilo Mainardi, che è stato il suo mentore e di cui lui ha preso il posto nella didattica erogata dall'Università Ca' Foscari. E quindi è in qualche modo colui che porta avanti la profondità di approccio che caratterizzava l'opera e la scienza prodotta da Danilo Mainardi per quel che riguarda lo studio del comportamento degli animali e del comportamento degli animali riferito al loro rapporto anche con l'uomo. Quindi si parla di ambiente, di biosfera, di biodiversità, di ruolo delle specie e tutto questo verrà fatto all'interno di un contenitore concettuale corretto. E quindi io spero, mi auguro che Marco e Stefano siano in grado di fornirvi quelle risposte, le risposte a delle domande magari che non avete neanche mai pensato di volervi porre o di voler porre a qualcun altro. Bene, dopo questo piccolo sproloquio, adesso do volentieri per primo la parola a Stefano Malavasi che ci parlerà di Puntini. Io intanto lancio la presentazione. Vedete? Non ancora. Ok. Si vede? Bene, buonasera. Ringrazio tutti quanti per l'invito, sono molto contento di contribuire a questo dibattito e di partecipare a un confronto come questo. Io stasera volevo offrirvi alcuni spunti di riflessione che vengono da idee che si inquadrano un po' in un filone di pensiero biologico ed evoluzionistico. Filone di pensiero che forse potrebbe fornire delle idee utili per il pensiero ambientale di oggi e per i dibattiti sull'ambientalismo, sulla crisi climatica, sulla transizione ecologica. In particolare ho scelto due studiosi, uno americano, biologo americano, tuttora vivente per quanto anziano, Edward Wilson, e Conrad Lorenz, etologo, padre fondatore dell'etologia, premio Nobel nel 1973, scomparso nel 1989. Comincio da Wilson e dalla sua idea di biofilia. Ora, la biofilia potremmo definirla come un impulso, forse un istinto, forse un insieme di istinti, ad affigliarsi agli altri esseri viventi, una sorta di attrazione che la natura esercita sulla psiche dell'uomo. Quindi, fondamentalmente, è come dire che il nucleo psichico profondo dell'uomo è intrinsecamente biofilo, cioè l'uomo è legato intimamente e profondamente al resto delle creature viventi, al resto delle forme viventi, a quella che oggi chiamiamo biodiversità. Inoltre, la biofilia, diciamo così, trasforma le creature viventi in simboli, in metafore, che sono state anche incorporate nel mondo mitologico e religioso. Pensate a quanto zoomorfiche sono le religioni antiche, pensate a religioni arcaiche come il totemismo, che è proprio basato sull'identificazione fra l'uomo e l'animale, o fra una tribù, un clan e l'animale. Pensate allo zodiaco, che ha la stessa radice di zoologia, che è una carrellata di animali. Insomma, tutto questo fa pensare che nel profondo della psiche ci sia una base biofila che ha una valenza emozionale, una valenza, potremmo dire, estetica. E tutto questo, quest'idea, diciamo, è basata su questo pensiero evoluzionistico per cui esista davvero una natura umana, che è il frutto di un'evoluzione delle pressioni selettive, delle pressioni ambientali, che hanno plasmato l'uomo soprattutto nella prima parte, una lunga parte, la prima fase, ma è una lunga fase della sua evoluzione. E Wilson scrive, non sono i geni che determinano la natura umana, non sono gli universali culturali, questi sono i prodotti della natura umana. La natura umana consiste piuttosto nelle regole ereditarie dello sviluppo psichico. E la biofilia forse fa parte di queste regole ereditarie dello sviluppo psichico. Facciamo alcuni esempi sulla biofilia. Ad esempio, biofilia potrebbe voler dire emozioni, sentimenti, reazioni di avversione o di attrazione nel confronto di certe forme animali. E Wilson si sofferma molto sul serpente o sui serpenti in generale, che destano in noi tendenzialmente avversione, non solo avversione, sentimenti forti, emozioni forti, reazioni forti. Questa reazione al serpente si vede anche in certi primati. C'è una scimmia che si chiama cercopiteco verde, che ha una reazione di panico molto specifica ai serpenti ed emette segnali d'allarme specifici nei confronti dei serpenti. Pensiamo alla fascinazione che esercita il serpente e pensiamo al serpente a livello simbolico. Il serpente dell'Eden, della tradizione giudaico-cristiana, il serpente piumato delle civiltà meso-americane. Pensiamo ai due serpenti arrotolati del caduceo, quindi del simbolo della medicina. Insomma, il serpente ha un peso significativo. In tutte le culture, in tutte le civiltà, in quasi tutte, c'è il pericolo che viene dal basso del serpente velenoso, della vipera, o di una qualche specie o molte specie di serpenti. Questa idea del serpente nella biofilia converge con l'idea anche di uno psicanalista, Carl Gustav Jung, allievo di Freud, che pure ha una visione della psiche fondata su archetipi, quindi fondata su schemi innati, e lui sostiene che il serpente sia proprio il simbolo centrale dell'inconscio, in particolare dell'inconscio collettivo, ma anche dell'inconscio collettivo individuale dell'uomo. Un altro esempio della biofilia può essere quella della scelta dell'habitat in Homo sapiens. Cioè, possiamo chiederci se nella psiche dell'uomo ci sia una qualche immagine di ricerca per trovare l'habitat giusto, l'habitat ideale, potremmo dire, l'habitat che soddisfa tutti i bisogni. E se c'è un'immagine di ricerca, potremmo pensare a dei determinanti psichici che portano verso una certa scelta di habitat, come avviene per gli animali, perché nelle specie animali c'è in qualche modo un'immagine di ricerca per un certo tipo di habitat. L'habitat delle origini, seguendo la teoria dell'origine africana di Homo sapiens e della sua diaspora, poi autofafrica, potrebbe essere la savana africana. Ecco, questa è un'immagine computerizzata che presenta un habitat di savana. Queste immagini e immagini come queste sono state presentate nell'ambito di ricerca di etologia umana per vedere se gli uomini di diverse fasce di età, maschi, femmine, insomma uomini campioni della popolazione umana, avessero una preferenza per un habitat che si avvicina alla savana o che si allontana magari da questa configurazione della savana. Savana vuol dire spazi aperti, vuol dire anche alberi ad alto fusto, vuol dire boscaglia, vuol dire zone un pochino più sopraelevate dalle quali ammirare e vedere l'orizzonte. E quindi la biofilia, vedete, potrebbe avere applicazioni di questo tipo. La biofilia ha molte applicazioni anche nel design, nella progettazione urbana, cioè l'idea è quella appunto di avvicinarsi a quegli schemi percettivi che più rispondono ai bisogni dell'uomo e ai bisogni di una psiche che sia evoluta in un contesto ecologico di un certo tipo e in un contesto ecologico caratterizzato da un'elevata biodiversità, ad esempio. Quindi la biofilia può rappresentare le basi dell'etica conservazionistica perché potremmo vederla appunto come il substrato psichico che conduce a un certo tipo di scelta e che conduce a questo legame profondo con la natura. Poi naturalmente potremo successivamente discutere sull'utilizzo di cui si può fare del concetto di biofilia, nell'ambito ad esempio dell'educazione ambientale o in diversi altri ambiti. Vengo d'ora a Conrad Lorenz e a questo testo pubblicato più o meno negli anni Ottanta, inizi anni Ottanta, che si intitola Gli otto peccati capitali della nostra civiltà. Lorenz usa un suo metodo quando parla di civiltà moderna, di sistemi sociali, di sistemi economici. Questo metodo viene descritto nella sua Lectio Magistralis del Premio Nobel del 1973 che si intitola Analogy as a Source of Knowledge, cioè l'analogia come fonte di conoscenza. Analogia nella biologia evoluzionistica è un concetto piuttosto preciso, significa somiglianza di due strutture dovute ad una comune funzione, non ad una comune origine, ma al fatto che quelle due strutture sono al servizio di una certa funzione. Allora, con questo criterio dell'analogia, Lorenz prende in esame questi otto peccati, che potremmo chiamare più che peccati, magari problemi della civiltà moderna. Io qua a sinistra ho messo quattro di questi peccati, di cui non vorrei adesso parlare, perché non mi sembrano quelli che hanno una prospettiva più originale, non mi sembrano quelli relativi al contributo più originale che dà quest'autore. Sono infatti problemi molto dibattuti, anche oggi problemi di cui sicuramente conoscete molto, la sovrappopolazione, la devastazione dello spazio vitale, che oggi chiameremo frammentazione dell'abita, l'alterazione dell'abita, le armi nucleari, che era un problema sentito in quell'epoca lì, della guerra fredda, forse oggi è un problema sopito, non superato, però ecco, è il deterioramento del patrimonio genetico. Il deterioramento del patrimonio genetico forse è un peccato, un problema che si ascrive ad una visione un po' superata, diciamo, della biologia. Mentre vorrei dire qualcosa su questi altri quattro peccati, la competizione fra gli uomini, l'estinguersi dei sentimenti, la tradizione demolita, l'indottrinamento. Allora, per quel che riguarda la competizione fra gli uomini, Lorenz parla di meccanismi a retrazione positiva o a retroazione negativa, e sostiene che i sistemi viventi siano fondati soprattutto sulla retroazione negativa, sull'omeostasi, cioè sistemi tipo termostato, che regolano dei vari parametri, dei vari sistemi che sono in un circuito e che sono regolati in modo tale che un parametro si mantenga in un certo range, oscilli all'interno di un certo range. Se quel parametro va fuori da quel range, insomma ci sono degli effetti, dei processi di regolazione che lo riportano al valore desiderato, che deve più o meno rimanere costante. Invece i sistemi a retrazione positiva sono in un qualche modo esplosivi, ci sono una serie di fattori che si rafforzano uno con l'altro fino ad amplificare gli effetti. E allora scrive Lorenz che la competizione accesa fra gli uomini, la crescita quantitativa, l'aumento dei bisogni e dei consumi formano un circolo vizioso, un meccanismo a feedback positivo, esplosivo, destinato a collassare, perché i meccanismi a feedback positivo tendono al collasso, mentre i meccanismi a retrazione negativa proprio dei sistemi viventi tendono a regolare. Qua c'è una frase di un maestro di Conrad Lorenz, Oscar Einroth, che dice dopo lo sbatterdali del fagiano argo, il fagiano argo è un galliforme in cui le penne sono così sviluppate al servizio della competizione tra maschi, della competizione sessuale, che praticamente gli impediscono di volare. E quindi lui scrive dopo lo sbatterdali del fagiano argo, il ritmo di lavoro dell'umanità moderna costituisce il più stupido prodotto della selezione intraspecifica. Il più stupido prodotto, potremmo dire, della competizione all'interno della specie. L'estinguersi dei sentimenti, anche qua c'è un'analogia con un sistema fisiologico che è alla base di tutti i meccanismi di apprendimento negli animali, il sistema piacere-dolore. È una coppia di polarità, sono due poli, piacere-dolore. I meccanismi fisiologici degli animali, la capacità di apprendere degli animali, diremmo un po' tutta la sfera del comportamento animale in un qualche modo ritorna su questi due poli, piacere-dolore. E devono esserci entrambi. Cioè, in altre parole, è utile tanto l'insuccesso quanto il successo, tanto il dolore quanto il piacere. E devono andare in coppia questi due elementi. Perché funzionino? E l'evoluzione, il processo evolutivo, sembra aver prodotto processi fisiologici fondati su questa coppia. in realtà, dice Lorenz, nella civiltà moderna, tendiamo ad eliminare la polarità del dolore. Tendiamo ad eliminare completamente gli stimoli nocicettivi e a diventare molto, molto sensibili a questi stimoli, ad abbassare troppo la soglia a questi stimoli. Viceversa, ad avere una sensibilità via via decrescente verso quelli che producono piacere, per cui abbiamo bisogno di moltiplicare i piaceri e in un qualche modo di eliminare i dolori. E tutto questo porta a diverse conseguenze. Io adesso avrei degli esempi molto banali su questo. Conosco molte persone che sono consapevoli della crisi climatica, sono consapevoli delle emissioni dei gas serra, sono consapevoli delle problematiche ambientali, ma mai e poi mai rinuncerebbero all'aria condizionata, che non è un problema di dolore, se vogliamo, ma è un problema semplicemente di fastidio, così come conosco molti che tenderebbero a fare la doccia tre volte al giorno durante l'estate, alla faccia del risparmio di acqua. Vengo poi al discorso della tradizione demolita. Anche qua un'analogia con l'evoluzione. I sistemi viventi sono in bilico fra la conservazione delle loro strutture e il rimaneggiamento delle loro strutture e la modificazione delle loro strutture. Non ci sarebbe evoluzione se non ci fosse in un qualche modo continuità, se non ci fosse in un qualche modo conservazione di qualcosa, ma ovviamente non ci sarebbe nemmeno evoluzione se non ci fosse trasformazione anche profonda delle strutture, dei piani corporei, degli organismi viventi. Una metafora a cui spesso ricorre Lorenz è la muta del granchio. Il granchio cresce a tappe, a un certo punto si sveste della sua vecchia cuticola, affronta una fase delicata in cui il suo corpo è molle e ricostruisce la nuova cuticola. È un nuovo granchio che è cresciuto ma mantiene la struttura del granchio. Tutto questo per dire che anche i sistemi sociali e anche le civiltà sono fondate su un equilibrio fra cambiamento e conservazione della tradizione. E Lorenz dice attenzione a sottovalutare il tesoro del sapere tradizionale che a volte ci appare irrazionale. Attenzione a gettare a mare l'ingente tesoro di conoscenze e di saggezza contenute nelle tradizioni di tutte le antiche culture e nelle dottrine delle grandi religioni universali. E qua c'è un punto direi di contatto con la deep ecology col pensiero dell'ecologia profonda che pure richiama molto all'idea di ritornare ai saperi tradizionali in tutti i contesti saperi tradizionali nell'ambito dell'agricoltura nell'ambito dell'artigianato tradizioni spirituali. Ecco quindi noi forse dovremmo un po' uscire dalla spocchia dell'uomo moderno che si ritiene superiore anche perché se vogliamo dialogare con tutta una serie di popolazioni che ancora hanno quel saperi tradizionale per prima cosa dovremmo avere profondo rispetto e comprensione di quei saperi tradizionali. L'indottrinamento ecco questo è un vecchio è una vecchia è una vecchia questione che sta molto a cuore che stava molto a cuore a Conrad Lorenz l'idea che l'organismo sia l'idea di alcuni biologi dall'ora l'idea di alcuni psicologi dall'ora che l'organismo sia una tabula rasa sia un empty organism dicevano gli americani gli autori di lingua angolo sassone cioè un organismo vuoto tutto da riempire un foglio bianco su cui si può scrivere tutto quello che si vuole quindi manipolabile e condizionabile all'infinito. Questa idea veniva bollata da Lorenz come dottrina pseudodemocratica e diciamo il programma scientifico di questa dottrina pseudodemocratica era da una parte una scuola americana dei psicologi il behaviorismo che proprio si basava sull'idea di mettere l'animale in un apparato sperimentale e di costruire una sorta di condizionamento di sottoporre l'animale a delle prove a dei test dai quali l'animale usciva condizionato per esempio una skinner box in cui l'animale preme la leva il premere la leva fa scendere il cibo l'associazione fra l'azione del premere la leva e il cibo rinforza questo stesso comportamento e l'animale impara ad associare le due cose ad associare l'azione e la conseguenza dell'azione e quindi impara a premere la leva con sempre maggiore frequenza in modo da avere il rinforzo del cibo un'altra scuola di pensiero un'altra scuola scientifica è quella della teoria dei riflessi che è quella di Pavlov e quindi una scuola sovietica quindi Lorenz diceva sia che potremmo essere in ambito americano capitalista occidentale potremmo essere in ambito sovietico ma comunque c'è questo programma scientifico che conduce all'idea di manipolare gli uomini di condizionarli in un certo senso e da qui tutte le tecniche di manipolazione di massa che passano per la pubblicità la moda i consumi ecco anche questa idea a mio modo di vedere rimane assolutamente attuale soprattutto con le sofisticate tecniche di manipolazione che ci sono oggi concludo con un altro aspetto del pensiero di Lorenz che si ricollega io credo al tema della biofilia cioè la sensibilità per le armonie e la percezione delle forme ecco la sensibilità per le armonie è sostanzialmente e la biofilia può essere anche vista come sensibilità per le armonie le armonie delle forme viventi le armonie della natura la sensibilità per le armonie si fonda su una certa organizzazione strutturale dei nostri sensi e delle nostre strutture cerebrali e questa organizzazione la chiamiamo percezione delle forme e qui c'è la scuola tedesca la cosiddetta scuola della gestalt della percezione gestaltica che è la scuola per cui si ritiene che appunto nell'uomo ci siano meccanismi complessi per percepire la complessità delle forme per percepire la costanza delle forme per discriminare le forme e vedere anche una scala di armonie nelle forme e qua c'è una frase di Lorenz proprio che ritorna al tema della scelta di habitat della percezione dei paesaggi scrive Lorenz una persona amante della natura alla quale siano familiari per esperienza diretta molti diversi paesaggi ecologicamente sani acquisisce immancabilmente in modo irriflesso una capacità molto importante e gli troverà belli i paesaggi in equilibrio ecologico cioè i paesaggi più vitali destinati a sopravvivere più a lungo ecco quindi con questo vorrei appunto chiudere il cerchio perché questo pensiero coincide con il pensiero della biofilia di Wilson cioè ancora una volta l'idea che ci siano nella nostra psiche le strutture per percepire un paesaggio integro per percepire degli ambienti integri per e questa percezione è un fondamento estetico percezione della bellezza percezione degli equilibri e questa percezione è fondata su dei processi che funzionano dentro di noi che funzionano nella nostra psiche che sono i processi ad esempio della percezione gestaltica che per noi sono che dal nostro punto di vista appaiono inconsci intuizione percezione estetica ma probabilmente il cervello fa delle operazioni molto molto complesse per questo riconoscimento delle forme fa delle operazioni che appunto Lorenz chiama raziomorfe quindi operazioni che a loro modo sono razionali anche se noi le percepiamo come inconsce e come intuitive ecco con questo io ho concluso e spero che queste idee di questi studiosi e di questo filone di pensiero possa essere di stimolo per il confronto e il dibattito successivo grazie e a dopo ok grazie Stefano io conoscevo già in qualche modo quello che tu saresti andato a dire e come l'avresti detto però ancora una volta insomma sono rimasto direi quasi deliziato dalla linearità del ragionamento e da come con larga evidenza questo porti con sé dei concetti che sono allo stesso tempo profondi e importanti e direi anche questo se mi posso fare un commento prima di passare la parola a Marco se tra coloro che stanno seguendo adesso la diretta o tra coloro che guarderanno più avanti il filmato che ricordiamo sarà sia su YouTube che sul sito Facebook sulla pagina Facebook di XR Italia dicevo che i ribelli che in questo momento sentono hanno sentito Stefano Malavasi si saranno immediatamente resi conto di quante siano le connessioni con quello che quello di cui parliamo e con quello che cerchiamo di fare in quanto membri di un movimento di protesta contro l'emergenza climatica ed ecologica quindi in questo senso gli spunti che ha dato il tuo discorso sono veramente molti e io credo che molti dei ribelli a molti dei ribelli ha fatto veramente molto bene a sentirti grazie passo adesso a Marco se non ci sono interruzioni di particolare importanza e urgenza da parte di qualcuno vedo che non c'è per il momento ancora nulla di esiziale quindi passo la parola al collega Marco Armiro benissimo grazie anche io mi unisco a Stefano per ringraziare Estincio Rebellio Italia per avermi invitato Francesco e tutti voi che ci state seguendo adesso e che ci seguirete magari più in là ho pensato di sfidare diciamo la sorte e di venire a raccontarvi delle storie senza l'ausilio delle immagini diciamo che so bene che l'attenzione si dicono che l'attenzione senza immagini è difficile da tenere ma come storico e come appassionato di narrative mi gioco questa carta e vediamo se riuscirò a tenere la vostra attenzione con le mie storie e non so se la notizia è arrivata anche in Italia ma apparentemente siamo usciti dall'Olocene dall'era geologica in cui l'umanità era abituata a vivere dopo le grandi glaciazioni e saremmo entrati in una nuova era geologica che Francesco ha citato anche nella sua introduzione cioè l'era dell'antropocene ora come potete non so se voi tutti e tutte già sapete molto e tanto di antropocene quindi cercherò di non dilungarmi a dilungarmi troppo in questo primo segmento del mio discorso della mia chiacchierata comunque come il nome stesso suggerisce antropocene significa l'era dell'umano l'era in cui gli esseri umani sono diventati così potenti da essere paragonati a una grande forza geologica in grado di cambiare i cicli biogeochimici del pianeta ora cosa è importante in questo ragionamento sull'antropocene e che non si faccia una confusione cioè che l'umano che gli esseri umani riuscissero siano riusciti nella storia a trasformare plasmare l'ambiente intorno a loro non è certo una novità la novità è appunto questa scala planetaria dell'intervento umano che avviene secondo alcuni studiosi alcune studiosi con l'antropocene ora ovviamente quando si parla di antropocene una delle grandi questioni è la questione esatto è la questione dell'origine un po' gli storici le storiche sono ossessionati con le storie delle origini sembra quasi un po' una piccola ossessione o malattia come si dice una piccola malattia forse professionale comunque in genere la geologia ha una cosa che si chiama il golden spike in inglese cioè sarebbe il punto che significa letteralmente come se fosse il punto d'oro cioè il punto nella stratificazione della geosfera in cui tu puoi riconoscere il passaggio da un'era all'altra dunque il dibattito sull'antropocene è stato a lungo è un dibattito sulle origini dell'antropocene ve la faccio corta sennò diventerebbe troppo troppo lungo se fossimo in classe adesso o in una stanza a chiacchierare chiederei a tutte voi a tutti voi di dirmi secondo voi quando l'antropocene è iniziato purtroppo questo gioco non si può fare nel tempo pandemico in cui viviamo dunque un'ipotesi è l'ipotesi dell'antropocene lunghissimo l'antropocene nasce quindi secondo queste ipotesi con il neolitico con l'invenzione o scoperta come preferite dell'agricoltura e di lì diciamo cambia le carte in tavola al contrario diciamo l'ipotesi più forte che era poi l'ipotesi anche dei proponenti dell'antropocene quelli che poi nel 2000 hanno riproposto questo tema con forza e con successo era che invece fosse la rivoluzione industriale questo momento di spartiacqua con la rivoluzione industriale 700 inglese sarebbe cambiato tutto e quindi l'uomo l'umano diventa quella forza in grado di cambiare i cicli biogeochimici del pianeta in realtà diciamo il lavoro degli studiosi e delle studiosi ultimamente si è concentrato invece su quello che è stata definita dagli studiosi penso soprattutto per esempio a John McNeill in un libro con lo stesso titolo la grande accelerazione cioè sostanzialmente dal dopoguerra in poi dagli anni 50 in poi possiamo davvero riconoscere una grande accelerazione c'è una famosa immagine che se cercate su google troverete che è l'immagine tipica della grande accelerazione che coincide con quella dell'antropocene sostanzialmente dei grafici che si dicono i grafici come il bastone dell'hockey per cui sono prima sempre allo stesso livello e poi schizzano verso l'alto e insomma chi ci ha lavorato su queste cose si è divertito perché dalla popolazione al consumo di petrolio e fin qui magari ci siamo ma poi che ne so ai mcdonald e altre cose di questo tipo si può vedere chiaramente questo schizzare verso l'alto nella grande accelerazione ma c'è qualcosa di più diciamo specifico nel ragionamento sull'antropocene e la grande accelerazione che è l'era atomica e qui mi ricollego anche a quello che si diceva prima sulle armi nucleari in realtà l'antropocene si riconosce dagli anni 50 in poi dagli anni 40 e 50 in poi perché si ritrovano le esplosioni nucleari sia della guerra che del diciamo le esplosioni nucleari come possiamo dire della guerra fredda no? e quindi ci sarebbe questo golden spike tuttavia queste chiacchiere che vi sto facendo sulle origini dell'antropocene spero che vi aprano in realtà la mente diciamo la curiosità su un'altra questione cioè sulla questione che in realtà stabilire come dire il punto di inizio questa sorta di spartiacqua l'inizio dell'antropocene non è una questione da poco una questione che significa un sacco di cose perché è una questione altamente politica e qui penso di toccare un tasto forse un po' delicato nel senso che nelle scienze da cui provengo io quindi scienze umane scienze sociali per l'ambiente c'è una forte diciamo come posso dire attenzione a provare a leggere anche la questione ambientale come una questione politica se voi pensate nello statuto disciplinare dell'ecologia politica che è la disciplina che io una delle due discipline che insegno qui a Stoccolma l'ecologia politica si immagina in contrapposizione a quella che viene definita l'ecologia apolitica dunque torno un attimo indietro l'origine dell'antropocene è una questione quindi anche delicata politica nel senso diciamo profondo del termine vi faccio alcuni esempi per esempio ci sono Lewis e Maslin che invece dicono che l'antropocene non è nato in Inghilterra con la rivoluzione industriale non è neanche nato con le bombe atomiche da qualche parte non so se nel Pacifico o nel Nevada ma invece è nata nel nel grande progetto coloniale europeo sul resto del mondo in particolar modo sulle Americhe a questo punto quindi l'antropocene sarebbe nato sostanzialmente nelle piantagioni più che nella a Manchester nelle fabbriche descritte da da Engels oppure a come vi dicevo nel deserto del Nevada o nell'atollo di Bikini o Hiroshima no e si può andare avanti insomma adesso non vi voglio tediare con troppi di questi esempi la la questione su cui alcuni di noi alcuni di noi siamo a disagio con l'antropocene e qui passo immediatamente al secondo segmento della mia della mia chiacchierata con voi stasera e il secondo segmento è un po' sulle possibili alternative a questo antropocene ecco dicevo una delle cose su cui siamo stati più a disagio in molti in molte di noi è sostanzialmente il noi dell'antropocene l'antropocene la narrativa dell'antropocene ci dice che l'essere umano normalmente si dice noi abbiamo creato diciamo il il disastro socio-ecologico che ci abbiamo davanti e e via di seguito no ora questo noi dell'antropocene è un noi che lascia piuttosto ci lascia piuttosto scettici mi do il noi plurale maestatis perché semplicemente per umiltà perché non sono solo io a dirlo ad esempio jason moore che è uno storico e sociologo americano piuttosto famoso anche in italia ombre corte ha tradotto credo almeno due dei suoi libri ecco jason moore proponeva in un suo libro tradotto anche in italiano con il tipo con il titolo antropocene o capitalocene proponeva e propone questa nozione di capitalocene come alternativa all'antropocene qual è il cuore del capitalocene diciamo della proposta intellettuale del capitalocene l'idea sostanzialmente è esattamente superare questa visione di un noi come posso dire di un noi un po' generico o generale tutti noi insieme e invece indicare un sistema economico culturale e sociale come il principale attore in questa crisi socio-ecologica di cui ci troviamo che ci troviamo a vivere io uso spesso quando mi trovo a parlare di queste cose una metafora che è la metafora del Titanic della grande del grande questo sia il libro appunto che vi citavo di jason moore in cui si propone quest'idea del capitolo io spesso uso per provare a spiegare questo passaggio che sto facendo adesso vi dicevo uso la metafora del Titanic che immagino tutti voi conosciate la grande transatlantico nero la grande nave piena di tutti i ritrovati possibili della scienza e della tecnica che nel 1912 naufraga e si scontra con un iceberg ora il Titanic evoca un sacco di cose che hanno a che fare con questa crisi socioambientale o almeno l'evoca a me non so voi come la vedete ma questo scontro con l'iceberg quest'idea che la scienza e la tecnologia ci avrebbero salvato l'orchestra che suona piuttosto diciamo ignara e questo capitano come si potrebbe dire piuttosto cieco ha come dire riavvisaglie che la nave si va a schiantare contro un iceberg questa metafora come funziona dunque la metafora potrebbe raccontarci che l'antropocena è proprio così siamo tutti sulla stessa barca siamo tutti sulla stessa barca siamo tutti andando verso il disastro siamo tutti responsabili però diciamo il Titanic a studiarlo bene racconta anche un'altra cosa racconta che il 75% dei passeggeri in prima classe si salva il 25% dei passeggeri in terza si salva 75% di quelli in terza classe ci muore di Titanic dunque e tra l'altro se vi studiate un po' la storia del Titanic io sono quasi un ossessionato c'è anche qualcosa in più a un certo punto ci sarà un processo successivamente al naufragio e sembrerebbe che alcuni ufficiali abbiano addirittura o sparato in aria o sparato contro quelli che dalla terza classe provano a raggiungere il ponte perché in realtà è così perché le gated community in inglese si dice le comunità recintate chiuse sono la faccia più probabile di quest'antropocene dove i ricchi si rifugiano e i poveri vengono sbattuti fuori dunque vorrei diciamo in questo diciamo il mio questa prima parte del mio ragionamento vorrebbe spingervi a ragionare se davvero siamo tutti sulla stessa barca se davvero in realtà siamo tutti responsabili allo stesso modo che ne è per esempio del debito ecologico che ne è del debito coloniale che ne è del fatto che un pezzo del mondo ha consumato prodotto smaltito eccetera eccetera molto più di tutti gli altri che ne è di questa storia quindi perché un altro così velocemente un'altra metafora che mi funziona bene è la metafora di Notre Dame quando Notre Dame era in fiamme qualche tempo fa si diceva la nostra casa è in fiamme bisogna spegnerla tutti insieme dobbiamo spegnere la metafora di Notre Dame come la metafora del pianeta in fiamme non mi fraintendete è chiaro che sono belle cose bei sentimenti come potrei dire no vi trovate però quello che vi voglio far notare è che c'è qualcosa di strano c'è quando la casa è in fiamme è una casa comune che tutti devono contribuire a spegnere quando la casa invece c'è la piscina l'acqua potabile il vaccino ad esempio per qualche motivo questa casa così bella non è più comune e viene insieme alle telecamere e ai muri di recinzione come dice la la scrittrice americana Rebecca Solnit il paradiso non è che sia bello di per sé è il muro che fa il paradiso è la divisione tra un pezzo che si salva e il pezzo che invece può andare alla malura come si potrebbe dire può rimanere fuori dal paradiso una delle possibili alternative a questo concetto di antropocene vi dicevo la più forte la più popolare è quella del capitalocene proposta da Jason Moore e qui mi avvio invece al terzo segmento di questa chiacchierata di oggi e una possibile una possibile alternativa appunto a questo concetto di antropocene è il mio concetto di Westocene che in italiano potremmo tradurlo come l'era dello scarto un libro appena appena uscendo un mio libro con questo titolo Westocene per Cambridge University Press che sarà tradotto da Enaudi con un titolo che non abbiamo ancora capito quale può essere perché Westocene è difficile da tradurre ora che cosa è la cosa importante del Westocene perché in che modo il Westocene vuole contribuire ecco ecco questa è la copertina del libro grazie in che modo il Westocene vuole contribuire a questo dibattito sull'antropocene e sulla crisi ecologica io penso che la cosa più importante del Westocene innanzitutto bisogna intenderci quando io parlo dell'età del rifiuto del Westocene non sto immaginando l'età del come dire dei rifiuti per strada non è un modo un po' come dire accademico una parola accademica complicata per ripetere diciamo invece così la come posso dire il ritornello semplice di chi di chi lamenta le strade sporche della sua città quando io parlo di questo ce ne parlo di un'altra cosa parlo di una cosa che in inglese si dice come wasting relationships e che in italiano potremmo tradurre come delle relazioni che producono scarto e questo è un passaggio importante perché un'altra delle critiche dell'antropocene io credo sia che l'antropocene insiste troppo sulla reificazione reificazione significa trasformare una relazione in una cosa quindi io credo che l'antropocene insista troppo su una reificazione della questione diciamo socio-ecologica in altri termini per spiegarmi un po' meglio se ci riesco se il problema sono le emissioni di CO2 se il problema sono le emissioni di CO2 dobbiamo trovare una soluzione alle emissioni di CO2 e tra l'altro le soluzioni possono essere tante vi trovate perché può essere magari le centrali nucleari o magari può essere una bella gated community che ci protegge e ci evita troppa esposizione insomma quello che voglio dire è che se noi reifichiamo il problema rischiamo di non andare a vedere e quindi anche ad affrontare in realtà quell'insieme di relazioni socio-ecologiche che producono il problema quindi il Westocene parla delle relazioni socio-ecologiche che producono comunità multispecie quindi umani e non umani comunità di scarto ora badate bene le comunità di scarto non sono un errore del sistema socio-ecologico e socio-economico contemporaneo si potrebbe dire in maniera meno ambigua non sono un errore del capitalismo in realtà le comunità di scarto le comunità multispecie di scarto sono il modo in cui il capitalismo fa profitto un filosofo africano molto importante che vi consiglio di seguire di andarvi a vedere se non avete avuto modo di conoscerlo che è Achille Bembe parla di una cosa che lui chiama la necropolitics la non so tradurlo la necropolitics sarebbe come la politica della morte no? e che poi è anche stata sviluppata da Benjury da un altro da uno studioso invece indiano come necro-capitalismo cioè sostanzialmente capitalismo della morte un capitalismo che fa profitto non più solo dalla produzione e riproduzione ma anche in realtà dalla distruzione di vita quindi il Westocene contribuisce in questo modo secondo me al dibattito e al ragionamento sull'antroposcene dicendo che non dobbiamo guardare alla cosa alla cosa quindi non alla cosa ma al set di relazioni socio-ecologiche che producono la cosa che producono per esempio comunità multispecie di scarto e una cosa importante del Westocene è che non basta produrre comunità tossiche contaminate non basta produrre comunità socio-ecologiche comunità scusatemi multispecie di scarto in realtà una cosa che io provo a spiegare in questo libro che ho scritto è che è vitale per il Westocene anche produrre una narrativa tossica qui sto usando sto prendendo diciamo in prestito adattandolo un po' un concetto che viene in realtà non da uno non da studiosi accademici con i titoli giusti professori ricercatori ma in realtà da un collettivo di scrittori di scrittori italiani che forse qualcuno di voi qualcuna di voi ha conosciuto che sono Wu Ming Wu Ming ha parlato spesso di quest'idea delle narrative tossiche io riprendo quell'idea e ritengo che il Westocene funziona anche attraverso narrative tossiche per narrative tossiche io intendo narrative che silenziano normalizzano normalizzano o cancellano l'ingiustizia socioambientale vi faccio qualche esempio velocemente perché credo di avere dieci minuti per la conclusione il faccio qualche esempio rapidamente pensate a una storia che sicuramente spero conoscerete la storia del Vaillant della del grande disastro della diga del Vaillant con 2000 morti ammazzati diciamo per la fede cieca nell'ingegneria e per la fede cieca nel profitto ecco lì c'è una storia interessante di narrative tossiche che ha raccontato una giornalista e scrittrice italiana Lucia Vastano in un suo libro l'onda lunga del Vaillant ed è la storia del cimitero del Vaillant il cimitero del Vaillant è il cimitero delle sopravvissute dei sopravvissuti di chi l'ha costruito immediatamente dopo la sciagura ma a un certo punto intorno al 2000 se ricordo bene arrivano un po' di soldi di compensazione e il comune di Longarone decide di creare un memoriale quindi un cimitero monumentale per ricordare la sciagura il disastro nel passaggio dal cimitero di Fortogna quello artigianale se posso permettermi al cimitero monumentale si perde la memoria dei sopravvissuti le lapidi vengono distrutte e si passa a un memoriale molto anonimo anestetizzato perché? perché il dolore deve essere un fatto individuale e viene spunta viene cacciata via la rabbia Lucia Vastano ricorda questa lapide molto insomma molto come posso dire molto dura molto forte di una famiglia di sopravvissuti che la lapide adesso non ricorda memoria ma diceva una cosa tipo barbaramente uccisi per la sete di profitto aspettano in vano giustizia e ovviamente questa lapide non c'è più c'è un blocco di marmo con il nome il cognome la data di nascita e la data di morte un esempio sulle natative tossiche possono essere tante io sono di origine napoletane come avrete magari intuito dall'accento nella terra dei fuochi tra Napoli e Caserta questa terra fortemente contaminata da rifiuti tossici per molto tempo si è detto che il problema della gente che si ammalava erano gli stili di vita gente che evidentemente non fa abbastanza ginnastica che mangia male eccetera eccetera ecco quella è una narrativa tossica una narrativa tossica una narrativa che racconta la storia del miracolo economico italiano sapete anni 60 subito una grande crescita dell'industria dell'economia italiana ecco la narrativa tossica è una storia che racconta quella storia senza raccontare chi ha pagato il prezzo gli operai che si sono ammalati di benessere ecco questo era l'esempio sulle narrative tossiche e quindi mi avvio a concludere con l'ultimo pezzetto di questa mia chiacchierata che si fa qual è la reazione al Westocene se il problema del Westocene è queste wasting relationship queste relazioni che producono e riproducono comunità di scarto ecco io credo che la chiave di volta sia qualcosa che si oppone in maniera radicale a questo e faccio nel libro io faccio due esempi fondamentalmente uno è la guerriglia narrativa la guerriglia narrative e l'altro è il commoning guerriglia narrativa in che senso? se le narrative tossiche che fanno abbiamo detto silenziano normalizzano o cancellano del tutto le storie di ingiustizia quindi pensate che la storia del Vaillant sostanzialmente l'ha raccontato un attore autore di teatro Marco Polini non gli storici non io non i miei colleghi le mie colleghe ecco la guerriglia narrative sono le mille pratiche dal basso che invece costruiscono una narrativa alternativa si direbbe usando un linguaggio gramsciano da gramscina una narrativa contro egemonica che propone un altro tipo di verità un altro tipo di storia un altro tipo di identità è per esempio la narrativa la guerriglia narrativa che abbiamo organizzato noi dal mio laboratorio di Stoccolma con un progetto di ricerca che abbiamo chiamato Toxic Bios autobiografie tossiche in cui abbiamo raccontato non abbiamo raccontato noi abbiamo aperto il microfono e abbiamo lasciato che tanti e tante raccontassero le loro storie appunto di tossiche come una forma di contro narrativa contro egemonica contro le narrative tossiche che silenziano tutto questo il commoning invece dicevo se il wasting cioè se questo produrre scarto è il cuore del Westocene il commoning è il cuore di qualcosa di diverso ora io non so quanto voi conoscete questi concetti magari li saprete anche meglio di me quindi perdonatemi se magari vi annoio con qualche dettaglio ma insomma commoning da dove viene? Viene da commons i beni comuni appunto però il commoning fa un po' lo stesso lo stesso lo stesso operazione che vi ho raccontato prima sull'antropocene cioè evita una reificazione abbiamo detto un trasformare in cosa una cosa un set di relazioni socio-ecologiche quindi si passa dall'attenzione sul commons come cosa all'attenzione sul commoning che in inglese funziona bene che è il come posso dire il produrre riprodurre commons come invece l'essenza e questo è molto importante perché non si tratta di salvare qualche bene comune prima che lo se lo prendano prima che lo privatizzino ma in realtà di produrre di produrre continuamente commons attraverso cosa attraverso relazioni di cura e attraverso relazioni che mettono al centro la riproduzione della vita dei sentimenti per usare le parole che si dicevano prima riproduzione degli affetti contro appunto invece una logica di wasting di scarto che produce profitto come dicevo prima sulla distruzione della vita il necro capitalismo la necro politica questo è il libro di Massimo De Angelis che è un po' uno degli studiosi insieme a Silvia Federici che hanno lavorato di più su questo passaggio tra il commons tra i commons scusatemi il commoning come processo io rimango dell'idea che diciamo contro il westocene quello che serve è appunto il commoning che è appunto il contrario del wasting e che è l'unica possibilità secondo me che ci può salvare perché e qui diciamo apro anche un po' un dibattito con voi perché sicuramente la scienza ci aiuta ci guida e senza la scienza diciamo saremmo forse prigionieri delle fake news e che ci farebbero credere che la sesta estinzione avviene per colpa dei gatti domestici e quindi appunto non è questo il mio discorso però io continuo a pensare che ci deve essere uno spazio per la politica e per la politica io intendo per la necessità di scegliere da che parte stare perché se il Titanic se il Titanic sta andando diritto sparato come si direbbe contro un iceberg certo si tratta di migliorare la tecnologia del Titanic tutto quello che volete ma io ho anche l'impressione che si tratta di ammutinarci e di prenderci questa nave perché il rischio è che il 75% della terza classe ci muore sul Titanic e i ricchi neanche se ne accorgono e mi fermerei qui grazie mille ok grazie infinite Marco e per te vale lo stesso commento io sono sicuro che hai messo nella testa nel cuore di molte persone degli spunti che hanno direttamente a che fare con le preoccupazioni che hanno fatto sì che noi questa sera stiamo guardando questo incontro quindi anche per te vale un ringraziamento che è innanzitutto il mio personale del gruppo scientifico ma sicuramente anche dei ribelli che ti stanno seguendo e delle persone che si avvicinano in qualche modo solo per curiosità si sono avvicinate alle serate che organizza il gruppo scientifico nazionale di Extinction Rebellion bene hanno già cominciato a fioccare le domande io a questo punto prima di passare le domande però ci tengo perché perché devo tenere perché ci tengo insomma a fare un commento sul libro di Conrad Lorenz Gli otto peccati capitali che io lessi quando quando ero uno studente quindi è una cosa che io conoscevo e che adesso Stefano mi ha anche fatto leggere secondo una prospettiva diversa e penso che molti di quelli che ci stanno ascoltando saranno d'accordo nell'individuare negli otto peccati capitali di Conrad Lorenz l'altra faccia della medaglia dei dieci principi che sono fondanti della strategia ideologica di Extinction Rebellion nel senso che Extinction Rebellion parla con i suoi dieci principi di cosa va fatto per evitare di commettere i peccati capitali di Conrad Lorenz questo è molto interessante molto bello dal punto di vista per cui ovviamente non posso che invitare tutti a leggere gli otto peccati capitali di Conrad Lorenz in attesa della traduzione italiana di Waste of Cene che mi affretterò comunque io a prendere direttamente nella versione inglese allora cominciando con le domande un pochino purtroppo non ci sarà spazio tempo per affrontare tutte le domande e per rispondere a tutte e invito comunque le persone che non troveranno soddisfatta la loro curiosità a contattare Extinction Rebellion a contattare XR e noi poi provvederemo a cercare di o smistarle agli oratori o provare a capire se autonomamente possiamo indirizzare una risposta sensata allora la prima domanda che volevo porre è posta da Elisa che chiede il ruolo il possibile ruolo dell'animalismo nel dibattito culturale scientifico sulle emergenze ovvero sia da una prospettiva biologica non specifica a chi lo chiede da quello che capisco si tratta di capire se delle posizioni concettuali animaliste possono trovare posto nella disamina invece che avete fatto voi sul rapporto più generale fra uomo e la natura chi di voi vuole dare una risposta lascerei rispondere a Marco questo è un colpo di scena vuoi vedere come me la cavo secondo me no no però tu hai scritto la storia dell'ambientalismo tu hai studiato i movimenti ambientalisti i movimenti animalisti per questo lascio parlare sono qualcosa di diverso però hanno probabilmente una collocazione soprattutto adesso all'interno dei movimenti di protesta sì beh guarda lasciatemi essere sincero come non si deve mai essere quando si parla in pubblico soprattutto quando si dovrebbe essere un esperto super super esperto dunque la verità è che io vengo da una devo dire che ho un problema con l'audio perché mi si rimbomba tutto non so se per caso ci può aiutare adesso va meglio grazie grazie scusatemi dunque devo dire che appunto dicevo partiamo subito con la verità io vengo da una tradizione diciamo intellettuale e politica che non era non è mai stata particolarmente attenta su queste cose è inutile nascondersi e girarci e credo che sia stato uno dei grandissimi limiti della tradizione intellettuale e politica da cui provengo ed è anche la bellezza di aver finalmente imparato qualcosa di nuovo e secondo me ce lo dice molto chiaramente penso a quello che scrive Caroline Merchant Caroline Merchant è una delle storiche ambientali più importanti è l'autrice di un libro bellissimo pubblicato nella collana rossa della Garzanti avete presente quello in cui c'era Barry Commoner in cui hanno prodotto un sacco di questi libri importanti ecco Caroline Merchant diceva che lo sfruttamento dell'uomo sull'altro uomo passa sempre attraverso anche lo sfruttamento dell'uomo sull'animale e le altre specie io credo che questo insegnamento sia una cosa molto importante e credo che stia maturando questo tipo di ragionamento ormai cioè quest'idea che abbiamo bisogno io l'ho ripetuto più volte di un'alleanza multispecie che vada al di là delle alleanze diciamo tradizionali che erano alleanze di classe di genere di razza come si diceva negli Stati Uniti eccetera credo che sia una delle cose più nuove che stiamo scoprendo in questi in questi anni e tra l'altro voglio dire è molto vero che in questo le culture indigene soprattutto ci hanno ci hanno aiutato io ho lavorato un po' un pochettino sul su Standing Rock cioè sulle proteste contro l'oleodotto che passava attraverso il nord Dakota e lì per esempio c'è un utilizzo anche appunto di una religione come dire di una cultura di una tradizione totemica eccetera molto forte anche nella mobilitazione delle comunità indigene che ci sono lì e aggiungo ci sono storie anche più vicine e vorrei finire perché se no parlo troppo io le risposte non le so fare tanto bene c'è una storia italiana che io racconto spesso che è la storia del lago che resiste sto parlando del laghetto Ex Nia di Roma se non la conoscete questa storia ve la cercate su Youtube è un bellissimo video di assalti frontali è un video musicale ed è una storia di un'alleanza multispecie come scrive e canta assalti frontali ci siamo tutti c'è anche il Cormorano a difendere cosa a difendere un territorio contro la speculazione e secondo me è un bellissimo esempio di Westocene perché perché quella è una fabbrica abbandonata allora lì c'hai due possibilità la metti a valore ci fai un bel centro commerciale e la metti a valore risolvi una questione è anche quello un modo di combattere il Westocene se la fabbrica abbandonata è il waste il rifiuto ci fai un centro commerciale risolto o invece costruisci commons fai commoning e trasformi una speculazione in una grande storia collettiva che tra l'altro riprende e qui citò Stefano le memorie le memorie in quel caso non sono memorie diciamo di saperi popolari in senso diciamo magari più tradizionale ma è l'archivio delle operaie che lavoravano in questa fabbrica tessile che produceva tossicità e faceva ammalare chi ci lavorava un archivio buttato via e che invece viene recuperato insieme al lag e al cormorano quello che ho capito dopo tanti anni troppo di ignoranza è che non ci salviamo da soli e che contro il capitalismo ci vuole anche il cormorano questo è quello che ho capito di recente c'è stato l'assalto per gli orsi adesso non mi riesco a ricordare il nome del posto dove sono imprigionati perdonatemi ma lo saprete sicuramente molto meglio di me e c'è stata una manifestazione diciamo dei centri sociali soprattutto del nord est è una marcia per la liberazione degli orsi detenuti con un documento molto interessante che metteva insieme per esempio tutte le forme di repressione inclusa quella contro gli animali anche in questo caso non vi sto provando diciamo non è tanto questione diciamo di vendere nulla di particolare però di vedere come c'è una riflessione in corso quello mi interessa in cui anche magari persone che esperienze che non erano sempre immediatamente così sensibili a questi temi si stanno interrogando invece su questi temi questo mi sembra che sia interessante poi ovviamente ciascuno e ciascuna rimane con le sue opinioni per l'amor di Dio qualcosa? e hai chiesto qualcosa a me Francesco? sì no volevo sapere se volevi aggiungere qualche cosa sempre nei riguardi ma aggiungerei che appunto forse si potrebbero superare anche termini come animalismo io penso e magari appunto come diceva Marco vedere la vita nel suo insieme che è proprio un flusso che tocca tutti i viventi perché ad esempio voi sapete che adesso c'è un divulgatore Stefano Mancuso che parla molto di piante di sistema nervoso delle piante cioè di una sorta di cioè di quasi comportamento delle piante allora se anche le piante hanno qualcosa di analogo al sistema nervoso degli animali a questo punto non ha più senso neanche parlare di animalismo ma forse di un di un senso del sacro per tutta la vita ecco di una di un di un in questo sono d'accordo con quegli autori come quel biologo abbastanza biologo della complessità teorico Kaufman che parla di reinventare il sacro di risacralizzare proprio il pianeta ma allora non è un problema solo di animali può essere un problema veramente di tutto ciò che è vivente grazie Stefano per un attimo l'audio quando tu hai detto il nome del biologo delle piante immagino intendessi Stefano Mancuso Stefano Mancuso va bene passo allora alla domanda successiva e Mimma chiede se Marco Armiero ci può dire qualcosa di più sul concetto di ecologia politica in due parole ormai ormai mi hai schedato come come un elemento pericoloso le risposte no no vai vado cerco cerco di essere veloce guarda in realtà l'ecologia politica è un campo di ricerca molto abbastanza forte nel resto del mondo soprattutto negli Stati Uniti non è una disciplina perché invece è un campo di ricerca multidisciplinare su cui studiosi e studiosi di discipline diverse convergono una delle diciamo che è occupato in maniera molto forte dei geografi dalle geografie che sono forse la disciplina più forte ma anche io che geografo non sono comunque la pratico forse i due principi più importanti dell'ecologia politica che mi verrebbero da dirti era un po' quella questione che dicevo prima sul diciamo sul come dire il passaggio da ecologia a politica a ecologia politica l'ecologia politica e guardare alle questioni socio ambientali e già metterci il socio ti dice qualcosa come se il potere contasse qualcosa cioè senza fingere che il potere sarebbe a dire le ineguaglianze di classe genere razza come se queste ineguaglianze non ci fossero no questa è l'ecologia politica l'ecologia politica invece le guarda l'altra cosa forse interessante e chiudo sull'ecologia dell'ecologia politica accanto a questo apolitico e politico che ti dicevo prima credo che sia anche il tema diciamo della qui magari insomma sarebbe un po' complicato da dire ma un po' della diciamo della politicizzazione della scienza cioè i saperi scientifici intesi a questo punto non solo come portatrici di una verità scientifica ma anche diciamo dentro provare a capire in che modo questi saperi scientifici hanno anche a che fare con le grandi scelte e con le scelte politiche mi fermo qua perché se no prendo troppo tempo ti posso consigliare se vuoi di avvicini di cercarti un po' i collettivi di ecologia politica che ci sono in tutta Italia se li cerchi su google ci saranno un sacco di documenti che magari ti aiutano molto più di quello che sto dicendo io adesso grazie 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 marco anche questa è come vi avevo in fondo promesso all'inizio di questa serata che avremmo sentito cose che tendono a passare un pochino a lato del dibattito sul movimentismo e sulle emergenze climatica ed ecologica quindi ancora una volta è tanto meglio cominciare a informarci su quello che è veramente il contesto culturale su cui poggia anche un movimentismo così strutturato come quello di Extinction Rebellion allora Giulia ci chiede invece vi chiede se è possibile attuare politiche di commoning in tempo utile per intercettare gli obiettivi delle agende politiche internazionali e con questo capo di Stefano tocca a me o vuoi provare tu no no tocca a te prego guarda Giulia ovviamente credo credo non lo so la tua domanda come dire è una domanda importante in qualche modo per me è anche un po' una critica in senso buono c'è un'urgenza tra l'altro Extinction Rebellion insiste molto sull'urgenza sull'emergenza eccetera e a volte anche io mi sembra quando parlo che siamo davanti a me un piano un po' troppo lungo e forse il tempo non c'è quindi non so se è anche questo quello che tu volevi dire però lasciami dire una cosa cioè io non penso che possiamo neanche però morire di emergenza cioè che voglio dire voglio dire qui ci vuole anche secondo me un sogno ci vuole anche come dire un grande una cosa di grande respiro io penso che il commoning è qualcosa che ci dà tutto questo perché mette insieme secondo me il meglio delle tradizioni da cui molti di noi proveniamo che per esempio la tradizione della cura che è un tipico per esempio delle culture femministe ecofeministe e invece anche la tradizione dell'uguaglianza che proviene più dalle tradizioni magari da cui vengo io dunque l'altra cosa che mi verrebbe da dire è che comunque il commoning è un sogno un grande sogno ma anche qualcosa che è vero oggi non è che solo diciamo comunque campati in aria cioè i caracol zapatisti del Chiapas sono il common incarnato il commoning incarnato è fare un mondo in cui molti mondi sono possibili per venire un po' più a noi più vicini degli zapatisti Napoli la città che conosco un po' meglio per motivi biografici ha sviluppato come forse alcuni di voi sanno una legge come si dice una delibera scusatemi una delibera municipale sui beni comuni urbani per cui ha sottomesso la logica della proprietà privata e dell'interesse privato alla logica di un interesse collettivo pubblico quindi insomma credo che qualcosa in qualche modo si muove gli obiettivi imposti dalle agende politiche internazionali non lo so mi verrebbe da dire però puoi ridere se sei libero tanto non ti vedo ma forse questi obiettivi li dobbiamo cambiare l'idea di prendersi il Titanic solo di provare a salvare così come era è questo un bellissimo slogan di chi si ribellava in Cile era la normalità era il problema non è che si tratta di ritornare alla normalità qua la normalità è il problema se le agende qui mi piacerebbe che noi dettassimo noi l'agenda più che soltanto provarci però lo so lo so che è difficile lo so che forse sto dicendo cose che non si possono fare quindi insomma capisco benissimo tutti questi problemi insomma perfetto grazie vado avanti con le domande abbiamo Donatella ah no Elisa prima che chiede proprio direttamente l'estinzione dell'uomo può essere una ricaduta dell'evoluzione? vedo dei grandi cenni di sì con la testa no no era un cenno per diciamo una grande domanda insomma io mi limito a dire che l'estinzione è un fatto molto naturale dell'evoluzione cioè l'evoluzione è scandita da come probabilmente avrete dibattuto anche in altri incontri è scandita da estinzioni di massa questo lo si vede molto bene nei record fossili si vedono queste grandi estinzioni di massa da 500 milioni di anni ad oggi 5 grandi estinzioni quindi insomma l'estinzione è parte integrante del processo evolutivo come le specie nascono le specie muoiono ed è praticamente un fatto assolutamente analogo alla nascita e la morte degli individui da certi punti di vista quindi diciamo io non escludo nulla da questo punto di vista nel senso che i processi evolutivi vanno in modo tale che ci sono momenti in cui il 75% l'80% delle specie viventi possono cadere estinte e dunque diciamo il processo evolutivo è un processo aperto imprevedibile abbastanza imprevedibile e dunque non mi sento di escludere nulla mettiamola così andiamo avanti adesso prima di passare alla domanda successiva però permettetemi di è una domanda che è a metà di tra domanda e commento ed è fatta da Nicola che è di Extinction Rebellion Scienziati che dice intanto propone un nome per Wasteocene che è Scartocene e chiede il problema dello Scartocene non è in fondo un problema solo perché la scienza e la tecnica ci hanno portato a una dimensione planetaria del problema stesso grazie grazie innanzitutto sempre sempre un po' di rimbombo dunque grazie mille innanzitutto per Nicola per l'idea di Scartocene ottimo ti ringrazio sono davvero un'eguai con questo titolo i miei amici e amiche di Napoli mi hanno consigliato di chiamarlo Munnezzocene ma secondo me non vado molto lontano con Enaudi dunque sì se ho capito bene la tua domanda ovviamente Nicola tu dici sostanzialmente la questione che la scienza e la tecnica ci hanno portato a una dimensione planetaria e quindi in qualche modo sono parte del problema e non parte della soluzione o almeno non solo parte della soluzione io sono convinto che la questione sia sia questa però diciamo come posso dire la mia la cosa su cui insisto è soprattutto l'elemento diciamo come avrei forse intuito come avrete intuito l'elemento diciamo di natura socio-ecologica cioè la scienza e la tecnica sono al servizio di un sistema socio-economico che intende produrre diciamo ricchezza per pochi a scapito di tanti c'è un principio nell'economia ecologica che dice che esiste la privatizzazione dei profitti e la socializzazione dei costi è una cosa banale in terra dei fuochi qualcuno ha fatto in terra dei fuochi quindi tra Napoli e Caserta qualcuno ha fatto un sacco di soldi con lo smaltimento le bonifiche le pagheremo tutti privatizzazione dei profitti e socializzazione dei costi per certo sono d'accordo con te la scienza e la tecnica non di per sé non risolvono il problema perché ancora una volta se il problema per me non sono non è lo scarto non che lo scarto non sia un problema però diciamo se noi ci focalizziamo sullo scarto noi reifichiamo ciò che lo scarto ha in realtà prodotto quello che lo scarto diciamo esatto che quindi sono queste relazioni di wasting queste relazioni di produzione di comunità multispecie di scarto che è la cosa su cui davvero dobbiamo attaccare insomma bisogna cambiare le relazioni socioecologiche non bisogna cambiare i prodotti di queste non perché sia sbagliato perché non serve a nulla certo certo allora altra domanda che viene dallo staff questa volta a Stefano una delle prospettive che la soluzione biofilica o biofiliaca ci fa intravedere è che il gap tra la scienza e la materia umanistica e saggezza e tradizione debba trovare di nuovo una sua unità è così? è così è così io credo che ci voglia beh ci sono già stati saggi in questa direzione si parla di una terza cultura fra umanesimo scienza e anche lo stesso Wilson ma tanti altri biologi pensano che ci debba essere davvero una sintesi tra tra la sapienza umanistica tra sapere umanistico e sapere scientifico a fondare questa questa sorta di terza cultura che diventerebbe una via anche diciamo per ridisegnare se vogliamo il nostro la nostra società il nostro sviluppo eccetera se vogliamo oltre alle materie umanistiche e a quelle scientifiche mettiamoci anche l'economia mettiamoci anche l'economia in questa trasformazione quindi io si ritengo che sia proprio così e che tutti quegli scienziati che si occupano di scienza della complessità di sistemi complessi eccetera sono su questa strada di trovare una sintesi col sapere umanistico e di fondare una sorta di nuova alleanza di nuova sintesi una sorta di via del sapere unica che non vede più questa dicotomia tra umanesimo e scienza grazie Stefano tra l'altro volevo aggiungere anche io un commento a tal riguardo mi hai quasi rubato le parole di bocca io di fatto come tu sai sono uno scienziato che si occupa di sistemi complessi di approcci sistemici alla sostenibilità alla sostenibilità eccetera effettivamente posso dire che anche se nell'immaginario collettivo la scienza continua a essere fortemente ancorata nella testa delle persone alla tecnologia e a un paradigma epistemologico disgiunto da quello delle scienze umane di fatto questo non è più vero e non è più vero da decenni la scienza di punta ha preso proprio di petto il compito di creare un contenitore anche tecnico anche analitico che metta insieme una concettualizzazione che non è più quella dell'esperimento e del metodo scientifico alla Galileo ma che porta la scienza all'interno di quello di cui ci avete parlato voi due questa sera quindi sì è per me l'occasione di dire che sì hai ragione Stefano ed è effettivamente così e mi fa piacere poterlo dire poter anch'io contribuire a portare questo messaggio spesso è sotterraneo per motivi anche comprensibili fisiologici va bene allora altra domanda a che punto siamo arrivati eccolo qua domanda credo di non averla ancora fatta questa è una domanda di Emilio chiamare antropocene un'era non è un atteggiamento troppo antropocentrico potrei potrei dire potrei dire amen finalmente rispondere velocemente Emilio hai ragione è molto antropocentrico è anche molto si dice no è un po' una hubris è un peccato di orgoglio chiamare un'era con il nostro nome ti aggiungo che tra l'altro c'è tutto un filone non abbiamo avuto tempo prima di raccontarvelo brevemente c'è per esempio un filone che parla di una cosa che loro chiamano the good antropocene l'antropocene buono sostanzialmente questo questo istituto questa fondazione americana che si chiama the breakout institute dice che siamo diventati cito piano testualmente siamo diventati dei ed è bene che impariamo a fare gli dei per bene quindi dobbiamo assumerci la responsabilità fino in fondo del nostro compito di demiurghi planetari io non faccio parte di questo gruppo io mi sono abbastanza diciamo sono stato sempre molto critico di quell'approccio perché secondo me un approccio tra l'altro è un approccio che per esempio dice esplicitamente il problema sono i poveri qui abbiamo in realtà nei paesi più ricchi stiamo andando avanti con la tecnologia e ce la caveremo il problema sono questi che invece sono indietro e continuano a mandare il pianeta alla malora poi c'è tutto un tema sulla crescita demografica di cui non parlerò perché temo che su questo è possibile che abbiamo idee un po' diverse ma quello che vorrei dire che quindi tu hai ragione è che ovviamente questa è tutta una retorica da nord globale ricco perché diciamo in realtà quando loro dicono noi siamo diventati dei e dobbiamo imparare a farlo per bene stanno parlando proprio di loro cioè stanno parlando dei bianchi ricchi del nord globale che pensano di poter giocare con le sorti di tutte e di tutti compresi i non umani ok grazie 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 ancora di 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 questa di questa risposta che ovviamente crea nuovi collegamenti cerebrali e neuronali e nuovi spunti di riflessione poi sarà anche interessante spero per per chi sta ascoltando adesso andarsi a risentire alcune parti del dibattito di questa sera che 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 sono destinate secondo me a a fare da stimolo veramente anche un approfondimento personale che faccia crescere anche all'interno di extinction rebellion una cultura che non sia semplicemente quella movimentista e dunque vediamo un attimo ci sono una valanga di commenti che non se non essendo domande non posso cioè sarebbe interessantissimo proporveli ma di fatto molti sono ringraziamenti ecco Lorenzo Ventura fa una domanda che immagino sia rivolta soprattutto a Marco e che dice ci aspettano grandi frenate quali? Lorenzo sai qual è la mia difficoltà un po' è che sono scarso a prevedere il futuro ho sempre sbagliato quasi tutto guarda tra i miei amici e amiche ero famoso per non azzeccarne una ma a parte gli scherzi sai qual è il fatto è che secondo me io scusami se mi permetto però secondo me qui l'inghippo sta ancora una volta quando noi usiamo troppo il noi adesso non è una critica che ti faccia tu hai ragione e io penso che la risposta giusta che ti dovrei dare è sì ce l'aspettiamo qualcosa però credo che secondo me forse come dire per aiutarci insieme anche a guardare alle cose in maniera diversa ma per esempio di chi stiamo parlando cioè se guardiamo le cose dal punto di vista di un agricoltore nelle Filippine voglio dire ma insomma questa frenata c'è stata forse c'è stata già oppure non so tu immaginati a vedere le cose dal punto di vista di un nativo americano noi ragioniamo sempre che su questa apocalisse prossima avventura no oppure quando siamo buoni ci immaginiamo che dobbiamo lasciare il pianeta ai nostri figli così come l'abbiamo ricevuto per le comunità indigene l'apocalisse nel passato c'è già stata c'è già stata e quello che io dico spesso è che la cosa migliore che noi potremmo fare come glob scusatemi come globale è non lasciare ai nostri figli la stessa ricchezza che abbiamo avuto noi di meno di meno quello è il problema che lo sviluppo sostenibile dovrebbe funzionare soprattutto per qualcun altro per noi forse ci vorrebbe un po' di decrescita magari non lo so forse non ho risposto alla tua domanda e sicuramente hai ragione credo che ci saranno queste 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 frenate ti invitavo solo non so se ovviamente ti sembra una suggestione interessante a ragionare le scienziate femministe dicono la positionality cioè la posizionalità da cui parli mi sono immaginato un Dakota oppure uno delle first nation come vivrebbe quest'idea di una frenata che deve arrivare guardando al futuro al passato e niente non so se ti ho risposto così perché non so rispondere magari però beh sì non si tratta certamente di domande che possano avere delle risposte pronto cassa e neppure che possano essere condensate facilmente andiamo con un'altra domanda facile questa volta per Stefano e ha senso di Veronica questa ha senso parlare di differenza fra viventi e non viventi così una cosuccia non succeda niente no beh chiaramente questo è un dibattito di cui è perneata in qualche modo gran parte della scienza sì assolutamente fin da dai greci chiaramente certo ma io penso di sì che abbia senso parlare di differenza fra viventi e non viventi se inquadriamo tutto questo nella scienza nel filone della scienza moderna se vogliamo fare come i greci che l'universo è vivo che tutto è vivente che tutto vive allora possiamo dire anche che l'universo è vivo ma qua andiamo diciamo ai greci ma se tu mi chiedi vivente non vivente secondo la visione che possiamo avere noi da un punto di vista scientifico della materia della materia vivente eccetera io credo che a un certo punto sulla terra compaia qualcosa che chiamiamo vita se poi invece vogliamo vederla appunto nel senso di un universo che vive di un tutto che vive che tutto è animato che tutto è vivente e quindi andiamo all'animismo o andiamo anche al pensiero di Platone perché se leggete il timeo di Platone c'è proprio questa idea di universo vivo di universo vivente anzi lui dice tutto l'universo è un grande organismo vivente allora possiamo anche far cadere questa differenza insomma dipende un po' in che sistema di riferimento ci mettiamo ecco direi grazie grazie Stefano posso permettermi di aggiungere io qualche cosa su questa domanda che effettivamente se noi consideriamo una prospettiva di lettura della realtà attorno a noi che è la prospettiva che ci viene data dal pensiero sistemico e quindi noi osserviamo la natura e la realtà anzi più ancora che la natura come una collezione di sistemi che fanno emergere grazie a una particolare strutturazione quello che poi invece siamo abituati a chiamare eventi o chiamare organismi o chiamare oggetti bene in questa prospettiva sistemica spostando l'attenzione dalla cosa in sé alla sua struttura svapora un pochino la differenza e si attenua perché ci accorgiamo che il mondo inanimato e il mondo animato che pure sono differenti di fatto presentano strutture che a volte sono incredibilmente simili proprio per quello che diceva Stefano all'inizio e cioè perché hanno ad esempio da un punto di vista evoluzionistico una finalità analoga e questo avvicina in qualche modo i due mondi e un ultimo riferimento che mi sento di fare è che ad esempio nei lemmi che descrivono il credo buddista questo tipo di distinzione è frutto di una domanda posta male ovvero sia è come se la domanda c'è differenza fra viventi e non viventi fosse una domanda sbagliata che quindi intrinsecamente non può avere una risposta autoconsistente dal punto di vista logico vediamo un attimo ok di nuovo Giulia che chiede come possiamo eccola qua approcciare barra integrare l'antropocene e le sue varie e innumerevoli accezioni definizioni geologiche e sociologiche dal punto di vista dell'attivismo quotidiano e sul lungo periodo altra domandina facile sì Giulia dunque cosa allora dare il nome alle cose è un grande segno di potere no cioè nominare anche nella religione per esempio cristiana c'è questa idea che con nominare le cose in qualche modo le cose diventano si fanno realtà e questo è molto è stato anche molto vero nell'esperienza storica coloniale l'imposizione diciamo di tanto di lingue di concetti pensa a tutto l'esperienza del mappare il mondo mappare il mondo è un grandissimo esercizio di potere e per questo servono le mappature invece le contromappature come si dice in inglese che sono come la guerriglia narrativa che ti raccontavo prima sto dicendo questo nel senso che io personalmente insomma come forse immaginerai ti inviterei a non usare troppo la parola antropocene secondo me la parola antropocene nasconde più di quello che rivela se siamo d'accordo se riusciamo a essere d'accordo che il noi dell'antropocene è un noi un po' ambiguo per dirla diciamo nel migliore dei modi ecco io credo che la prima questione su cui l'attivismo deve ragionare è per esempio ristabilire la verità ristabilire la verità e la verità è che c'è qualcuno che paga il prezzo del benessere altrui che c'è qualcuno che ha pagato l'espansione coloniale dell'Europa e dell'Occidente che c'è qualcuno che oggi paga il prezzo del benessere di qualcun altro quindi questo è e non lo so se io ho lavorato un pochettino in Brasile e tu vedi appunto quando uno dice che sono comunità di scarto comunità molti specie di scarto tu lo vedi sentire una favela quindi io penso che la prima questione è raccontare la verità raccontare che non siamo tutti sulla stessa barca sicuramente ma che qualcuno pagherà di più che per un lungo periodo i più ricchi penseranno di potersi proteggere sulle scialuppe di salvataggio nelle loro comunità come si dice in italiano non lo so gated communities con la loro aria condizionata con l'acqua minerale eccetera giustamente tu mi risponderai ma è sciocco prima o poi finirà tutto e tu hai ragione però diceva Keynes nel medio periodo nel lungo periodo saremo tutti morti cioè voglio dire comunque qualcuno magari se la caverà meglio quindi io credo restabilire la la verità schierarsi e ricordarsi che la crisi socio-ecologica è una crisi planetaria ma è anche una crisi che la si vive la si esperienza se si dice così in italiano si fa esperienza di questa crisi in maniera molto diversa se sei una lavoratrice a Dacca in Bangladesh o se sei comunque un professore universitario a Stoccolma e anche la pandemia è stata così ho scritto qualcosa sulla mia esperienza mi sono ammalato molto gravemente di Covid all'inizio di questa di questa pandemia e ho raccontato in un paio di articoli che significa come come non è vero che la pandemia ci faccia tutti uguali anche se ci ammaliamo tutti quindi non so se ho risposto però ti sto invitando diciamo a ragionare sulla articolare diciamo questa nozione di antropocene con la nozione di ineguaglianza di giustizia sociale di giustizia ambientale sì di nuovo come sempre succede stasera altri spunti e allora c'è un commento in cui si fa riferimento esplicito che è l'ora per i movimenti tipo Extinction Rebellion di adottare anche a valle delle tre richieste tradizionali che costituiscono insomma l'anima ideologica di Extinction Rebellion anche la quarta richiesta che per primi in America negli Stati Uniti intendo hanno hanno proposto di includere e cioè il riferimento esplicito alla giustizia sociale come componente indispensabile sia etico sia dal punto di vista etico sia dal punto di vista diciamo così sistemico della giustizia ambientale per cui la lotta ambientalista non può prescindere anche per motivi banalissimi tecnici dalla lotta per la giustizia sociale che effettivamente è un po' quello che dicevi anche tu per cui il disastro eco ecoclimatico diciamo così è il frutto di un di un di un rapporto tossico che l'uomo ha con 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 l'ambiente e quindi se è vero che questo rapporto ha creato i problemi che adesso sono diventati emergenze è anche vero banalmente che ha creato all'interno della società e delle società insomma quelle clamorose disuguaglianze che che fanno per per noi il mondo essere un paradiso e per molta più gente essere un inferno e in questo ci mettiamo anche molte altre categorie di esseri viventi insomma come è inutile approfondire allora guido una domanda un po' articolata devo dire vediamo un attimo Piero che invece chiede eccolo qua proponendo tutte queste alternative all'antropocene seppur affascinanti non si corre il rischio di minare l'appena costituito e forse fragile accordo narrativo su questa nuova epoca grazie se volete anche io ho una latidaria risposta non vedo non vedo l'appena costituito accordo narrativo su questa nuova epoca per me la narrazione è rimasta quella che era vent'anni fa quindici anni fa prego lascio agli oratori la parola grazie ti ringrazio per l'aiuto nella risposta Piero io sono abbastanza d'accordo l'accordo narrativo un po' non so ormai ci conosciamo dopo un paio d'ore come puoi immaginare non sono un appassionato dell'unanimismo cioè quando c'è troppo accordo mi spavento ho vinto un progetto di ricerca europeo scrivendo nel progetto ragazzi se pensate che io faccio sta cosa così risolviamo il conflitto socio-ecologico in campagna non mi date i soldi perché io penso che il conflitto è l'unica soluzione del problema quindi un po' diciamo eventualmente di frizione su questo accordo narrativo io la vedo bene ti faccio un esempio pensa a una cosa tecnica cioè quando gli operai e le operaie hanno cominciato a dire che ci si ammalava di mesotelioma quindi di amianto non è che tutti hanno detto tu sei certo come no cioè anche gli scienziati hanno detto no ma non è detto quando i minatori italiani in Belgio si ammalavano di silicosi non è che tutti quelli che del sanatorio pagati dalla corporation delle miniere diciamo sì come no certo è proprio silicosi un po' di frizione sulle narrative diciamo universali fa bene fa bene in realtà non ci dobbiamo spaventare ma poi lo dico a voi figura voi il conflitto ce l'avete proprio sono io che al limite mi dovete inserire il conflitto non lo so Piero sicuramente capisco il tuo problema l'antropocene ha un grandissimo merito ci ha detto che gli umani stanno mettendo a repentaglio diciamo il pianeta in quanto tale su questa cosa io credo questo consenso credo che hai ragione è importante non perderlo l'unico fatto è che io ho capito insisto un po' scusami se mi permetto che sta cosa di sti umani mi lascia sempre un po' perplesso perché voglio sapere perché uno di Maputo ha le stesse responsabilità di quel signore che vive a Manhattan cioè una cosa che non per non parlare poi della mucca allevata in 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 Amazzonia o del maiale in pianura padana ma insomma dico banalità sono cose che tu sei meglio di me sicuramente certo sì concordo effettivamente sì quando si parla di è colpa nostra il distingo da fare ma questa è una delle cose che ad esempio è un dibattito molto aperto anche all'interno di Extinction Rebellion sull'idea per esempio io ho l'idea che ci passa anche una narrativa colpevolizzante dietro per cui sai tutti noi noi stiamo distruggendo il pianeta però noi con il nostro comportamento personale facendoci una doccia invece di tre eccetera eccetera possiamo contribuire alla salvezza di fatto da un certo punto di vista entrambe le affermazioni sono completamente false questa è la realtà almeno è il mio il mio parere personale ora ragazzi dunque sono le 10.45 e adesso con calma noi ci avviamo alla fine di un dibattito che è stato dal mio punto di vista estremamente fruttifero proprio perché non si è limitato a uno scambio di opinioni su qualche cosa che costituiva già un substrato che avevamo in testa ma ha portato anche è stato un pochino anche una lezione ecco siamo tutti e tre universitaria questo è un disastro perché rappresentiamo una categoria di devastante impatto negativo però penso che qualche cosa di buono diciamo che penso che la nostra professione sia stata usata nel modo migliore questa sera ecco spero che siate d'accordo ora vorrei chiedere a Stefano e Marco di aggiungere a modi considerazione finale qualche cosa e poi possiamo avviarci alla conclusione fermo restando ripeto che se avete voglia di contattare Extinction Rebellion attraverso il sito potete farci avere se lo ritenete necessario opportuno anche ulteriori commenti e volendo anche ulteriori domande se volete Stefano sì io a conclusione di questo vorrei davvero dire vorrei veramente invitare i ribelli a considerare l'idea di mettere la giustizia sociale esplicita nel loro piano e di non fermarsi solo alla scienza la tecnica e tutte queste cose ma di metterci cioè di avere il coraggio di andare in profondità su quel tema di giustizia sociale e diciamo pure la verità a me piace molto il termine capitalocene perché dobbiamo dire le cose come stanno il problema si chiama capitalismo detto questo io adesso lascio la parola a Marco eccoci dicevo non ho molto da aggiungere Stefano perché hai detto proprio quello proprio quello che penso io penso che capitaleocene è la parola giusta quando io me ne sono venuto fuori con il questocene ho detto che questo questocene è un pezzo del capitalocene che prova semplicemente a raccontare per esempio di più la stratificazione del capitalismo dentro i corpi degli umani e dei non umani che è una delle cose di cui parlo nel libro sono molto d'accordo credo che mettere la giustizia sociale al centro e non come un come posso dire un corollario un orpello credo che sia una cosa importante e vorrei anche invitarvi a una cosa io vi ammiro moltissimo per la vostra la vostra conoscenza siete forse il gruppo che ha lavorato di più proprio sul sapere sulla scienza quindi non c'è bisogno che vi dico niente su questo invece vi dico una cosa un'altra cosa leggetevi Cico Mendes leggetevi Cesar Chavez non erano scienziati erano sindacalisti ed è la prima cosa da dire che i lavoratori e le lavoratrici non sono i nemici sono gli alleati perché chi paga il prezzo del profitto del capitale sia un maiale sia un lavoratore una lavoratrice uno del sud del mondo o semplicemente un disoccupato delle nostre città è un alleato è un alleata sempre leggetevi Cico Mendes che diceva che l'ecologia senza lotta di classe lui diceva poverino mo diremmo lotta per la giustizia sociale così nessuno si arrabbia ma è la stessa cosa è giardinaggio leggetevi Cesar Chavez capo dell'unione delle unions dei lavoratori dell'agricoltura in California che raccontava agli americani ricchi che compravano i prodotti agricoli e gli diceva guardate diceva loro guardate noi moriamo perché morivano nel 68 morivano 12 operai come si dice braccianti nei campi per i pesticidi dice noi moriamo ammazzati dall'agricoltura capitalistica ma quello che vi mangiate non è che vi fa bene qui ci vuole un'alleanza per salvare il lavoro per salvare la natura per salvare la civiltà una civiltà umana una civiltà più giusta quindi continuate a lavorare sulla scienza ma quello lo fate anche senza il mio consiglio perché siete molto più a me però ricordatevi di fare una bella lettura di Cico Mendes ok ti tranquillizzo Marco no 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 però è propria della struttura pensata a tavolino di XR anche il portare avanti un approfondimento e una formazione interna su cosa sono le culture rigenerative e su come vi sia anche una concettualizzazione del modo di rapportarsi con le altre classi sociali oltre che con la natura proprio in funzione della costruzione di qualche cosa che debba sopravvivere dal punto di vista evoluzionistico a un tipo di catastrofe socio-economica ed ecologica come quella che dovremmo affrontare lì saranno le comunità ad avere il gene sociale che permetterà di non dico è farso dire adattarsi ma che permetterà di proseguire a vivere questo intendevo dire bene adesso io credo che sia anche il momento di ringraziare Michele e Francesca che sono i due oscuri aiuti che dalla la cabina di regia hanno provveduto a scrivere con velocità della luce i sottotitoli e a cambiare e a mutare noi tre che se no avremmo continuato a parlarci sopra come nella migliore tradizione italiana e niente il prossimo appuntamento non ricordo se è la settimana prossima o la settimana successiva non importa riceverete come sempre l'informazione sui vari social e non so se adesso Michele dalla regia vuole mandare in onda un ultimo piccolo film mattino di XR che di solito viene mandato in coda alle nostre alle nostre alle nostre serate mille grazie veramente a Stefano mille grazie a Marco e io spero che anzi sono sicuro che vi saranno altre occasioni di confronto e di scambio di idee oltre che personali mie come voi due ma anche anche a livello di di del movimento grazie ancora buonasera a tutte buonasera a tutti arrivederci grazie mille grazie mille arrivederci a tutti a tutti ok fine grazie mille grazie mille